Italia Riproviamo Pronti questo lavoro Riproviamo prima verso l'alto A discesa il suo step Pronti? Via Non le ginocchia aperte I piedi aperti E taglia uno Voi lo fate ascendere A paperissima vi mando Non lo steppa a scendere Non lo steppa a scendere Scendi Spiegamento mentre si scende No, sta a scendere Mentre si scende Mentre si scende Eccolo lì Apri le gambe Devi stare con le gambe Quasi Non dico a questo Sono lo steppolo Quasi Dai, spingeli sempre verso l'alto Dalloni a terra Spingeli come punti Portacci Vai Io ho una palla Cannana Spingeli? Spingeli come meno Volta! Alsp Cette È Spingeli come Gli Sì Quasi Sì Sì ! Ah, no! Ah, non la fai! Vai! Dai, dai dai… No! Va bene! Eh, vabbè, per me prendere confidenza! Alla fai! Oh! Alla fai! V cough! Non l'hai battuta! Andrita! Vai! No! Oh! guarda lì vai 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 no no mi gira se vede la ricorsa anche tu con la ricorsa con la ricorsa giocati ancora un sennò fanno saltare completamente si ora si ammazza te l'ho detto è troppo faglielo saltare completamente ma c'è la famatilla che è una gazzella vieni 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 sulla testa dai addominali forza fateci gli addominali magari metà di questo cluster ci vorreste appena i piccoli quelle che hanno la base per fare una via di metro l'abbiamo in camion eh vabbè ma comunque giampa via 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No, se lo puoi, 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 dai, un'altra volta, pronti, sempre dieci, via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, quattro, dieci. Tien, quattro, cinque, sei, sette, otto, quattro, dieci, andi. Tu mi sono stato sposto. Matteo e Lollo, venite da questa parte. Cambia, cambia, andate di là. Spostati, Alex, dall'altra parte. Stefano, vieni di qua. Vieni, Mati. Spia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, quattro, dieci. Così si è ridotto. Possiamo farlo un cordonino? A posto siamo. Stasera tutti su YouTube, lo sai, sì? No. Eh sì, eh? No. Stasera tutti su YouTube, eh? Guardatevi perché vi pubblico di sicuro, eh? Ma dove dobbiamo andare? Sud, eh, cascò. Al tuo lato, su dove? Eh, certo. Grazie. 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 Grazie a tutti